Io sarò qui a dargli tutti i suggerimenti che preverranno dalle mie passate esperienze. E poi lasciatemi finire in un modo con cui non dovrei finire. Flottando anche per Forza Italia, la Forza Italia di OLE di Silvio Berlusconi, voi dovrete anche fare dei paragoni con gli altri leader in campo. Tutti gli altri leader italiani, ma che razza di leader sono! E oltretutto il vecchio Berlusca è anche uno dei più capaci imprenditori italiani. Non parliamo di donne perché li batto tutti!